Perché la loro generazione e le generazioni sfrutture non siano protagonisti di un'aviltà e di una convivenza che è quella forse che ha rappresentato alcune nostre generazioni in questi anni. Come sapete questa è la seconda edizione del progetto Legalità e quest'anno come associazione Beng abbiamo deciso di creare un premio che consegniamo quest'anno a Bifi. Alla domanda è la morte di Giovanni Falcone è stata inutile? La risposta è dipende da noi. Noi decidiamo se Giovanni Falcone è morto inutile oppure no. Se tu vuoi capire se un film è appagato il pizzo non ci vuole un giudice o un investigatore se con quelli non ci avrei mai visto. No, basta aspettare i titoli di corda. Se tu vedi due cognomi due... La sigara non esiste. Grazie. 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 Grazie.